Inaugurata a Sansepolcro la sezione autonoma del Calcit, ne parliamo con il suo presidente che è Fabio Canicchi. Allora, si concretizza questo progetto che fra l'altro viene anche da diversi anni fa e quindi finalmente anche Sansepolcro ha la sua sezione autonoma che si muoverà nella zona a sostegno con varie iniziative per i malati. Sì, finalmente siamo arrivati al termine dell'iterbutrogatico per la costituzione della sezione autonoma del Calcit in Valtiberina. Dico Valtiberina perché noi come Sansepolcro cercheremo di prendere contatti con le altre zone e cercare di iniziare un'attività comune per portare avanti le finalità del Calcit che sono tutte rivolte o essenzialmente rivolte alla lotta contro i tumori, che a tutt'oggi è la malattia che mette paura a tutti, è la malattia del secolo passato ma anche di questo secolo qui, almeno ai dati che abbiamo in mano oggi. Anche se abbiamo visto che con cura appropriata e interventi di ricerca si può arrivare anche a soluzioni positive di questa malattia. Quindi il Calcit si impegna per la raccolta fondi ma anche per tutta una serie di servizi assistenziali? Sì, il Calcit nei paesi dove, nelle città, in provincia di Arezzo dove già è da tempo attivo, compie dei servizi eccezionali rivolti sia al territorio sia alle famiglie e all'acquisto di apparecchiature molto costose da inserire nell'ospedale e al servizio della cittadinanza. Noi come Sansepolcro partiamo oggi, oggi è il primo atto ufficiale, oggi comunichiamo i nostri conti correnti bancari, oggi ci attiveremo per cercare degli amici, del sostegno e di fare nuovi iscritti, nuove persone che con il loro contributo sia in termini di lavoro manuale anche se sarà relativo ma in termini di aiuto economico ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi. Un obiettivo primario e iniziale che io proporrò al prossimo direttivo perché tutte le decisioni dovranno passare dal direttivo è l'acquisto di un macchinario per l'esame mammografico itinerante, cioè itinerante la parola stessa ce lo dice da portare nei comuni più disagiati dove difficilmente potrebbe arrivare la normale attività della usle e poter fare un'attività di prevenzione di questa terribile malattia al servizio delle donne in questo caso.